Bene a tutti ragazzi, ho ordinato due cose tempo fa, ordinai questa copri joystick che va all'interno ora non l'ho messa perché mi è arrivata proprio ora e verrebbe così, carino l'ho comprata perché mia figlia mi schianta in terra il joystick e quindi era per protezione e poi io vado a Lucca Comics a ottobre, quest'anno voglio fare il cosplay di Bane, non so se qualcuno di voi lo conosce Bane Bane è il cattivo di Batman, nel cavallero scuro il ritorno, dovrebbe essere questa, dovrebbe, vaffanculo, esatta è questa Eccola qua Eccola qua Bella Molto bella Ora viene Eccola qua Questa è la maschera del Bane, del cavallero scuro Ok Questa qua Ora non me la faccio vedere addosso a me perché io non sono pelato e nemmeno mi farò mai pelato quindi mi starebbe male Però Eccola qua Niente, volevo farvi vedere questi due oggettini che mi sono arrivati Ciao 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 ciao